Il Beagle è un beagle Da Beagle E' il Vigol Si è un beagle Si è un beagle E' lui 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 E' un Pantarotto E' un Pantarotto Pantarotto Quando pesa? 20 kg 20 kg 10 cm di cane Sto facendo il video Prova ad accarezzarlo Che bello Che bello Che bello Che bello E' proprio simpatico Che orecchie Che bello Che bello Quella Ha trovato la mia mia gemella E' bellissimo Ma riesco di insolare Se vuole grazie